Siamo nell'ascensore, ecco l'afrio, una panoramica ragazzi, potete che vi lasciamo via tutta serata a bordo. E ora faccio come Marco, ecco vedete questa sono io, ciao ragazzi. Ora ce ne do, rimuovo al 5 e dal 5 vi faccio rivedere l'altro. Vedi Marco che tu vai su e giù con gli ascensori panoramici che è una delle cose che a mi pare di più. Ora la puoi fare in diretta dalla nave, con me. Ecco qua. Pronte 5, oggi è qui. Qui c'è la galleria dei negozi. Faccio dare un'occhiata dentro. Profumeria. Lelleria. Negocio di volte. Un'occhiata. 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 Vi faccio vedere nei particolari questi manichieri. Guardate qui. Gli dei dell'Olimpo. Togati. L'idea. Si appartizza questa realizzazione. Dottui sono bellissimi. Anche se le nuvolette proprio sono un'occhiata. 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 Un'occhiata non 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 la gente la pisa la gente la pisa i ragazzi della spasa a sera stanno facendo un'operta i prodotti cioccolateria ora che indo verso la discoteca, la cappella e l'internet point venite con me in giro per la nave qui c'è il casinò, vedete il ciclo si scende dalla scala che dal casinò porta al piano sottostante e qui c'è l'internet point come situato in un corridoio, vedete in un lungo corridoio ci sono i compiuti per l'accesso internet da questo lato invece c'è la cappella qui c'è l'internet point qui c'è l'internet point e qui c'è l'internet point e qui c'è l'internet point sono i accroci I quadari sono un po' più in tema, diciamo, molto diversi da quelli di Luminosa, dove Marco aveva fatto notare che erano disneyani, diciamo. Eccoli qua, guardate che carini, il vetro di Murano. Vedete, la cappella non è in una parte scura, affaccia sul ponte scialuppe. E allora, signori, tutti col bicchiere in mano, tutte le mani, ecclerizzate la mena, mettete la glass in la hand. Everybody will you up, will you up, per un brindisi. And all together, ho fatto anche il tutto l'ensemble in stile italiano, Italian style e stile italiano, salute! Alla tua, alla tua, alla tua. Allora, signori, noi, qui partiamo da una ricca che siamo già appena anche nel nostro staff, le international host, la gestation manager, il nostro direttore tele, la stessa commissaria, la commissaria, Luca Meloni. Ma signori, è adesso una sorpresa, il tradizionale ballo col comandante. C'è la tradizione di danser avec il nostro comandante. C'è la tradizione di danser avec il nostro comandante. E allora, tutti in pista con il duo Odara. Ed ecco Sergio, il tecnico del suono del Salone Luna. Sì, grazie. Sire Sergio, sarai sulla iPod stasera. Sì, grazie mille. Sì, grazie mille. Io non ballo, io non ballo. Vieni a ballare qui. Sì, vero. Vediamo nel foglietto, vai. Il foglietto. Andrea, adesso vado a ballare. Oh, c'è anche linda, quello culo. Oh, c'è anche linda, quello culo. Oh, c'è anche linda, quello culo. Linnio. Linnorella. Linnorella. Oh, c'è anche linda, quello culo. la voce 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.